Osteria 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 Benvenuti a Osteria oggi prepariamo le montees pan frite ok, necessitiamo una pancia oliva un pochino carico due glutei è sufficiente basso la tavola pelle cutlet salto lo mettiamo nella pancia lentamente e lentamente cominciate a scegliere batter thyme rosemary e rosemary dopo un paio di minuti quando è scegliato da un'altra parte riusciamo scegliere e continuiamo a cuocere su una moderna fria mentre la tavola è cuocere prepariamo la musione usiamo un chanterelle come questo la più grande la più grande la più grande la più grande oliva l'oliva l'oliva con l'oliva con l'oliva 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 e niente di altro quando è quasi pronto rara, medio rara nobile scegliere non scegliere la scegliere è molto importante ora siamo pronti per giocare l'oliva 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 che ora è pronti l'oliva e lo mettiamo l'oliva 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 Abbiamo tagliato questo cartelletto con l'Argentino Malbec Petitres da Dumayen Vagneri in Mendoza. Grazie per la visione!